Quest'oggi Alexa controllerà la mia vita per 24 ore Per una giornata intera ho fatto solamente quello che mi ha detto Alexa E non è andata proprio benissimo Buongiorno Alexa che ore sono? Sono le 9 e il 19 del mattino Da come avete letto dal titolo quest'oggi Alexa controllerà la mia vita per una giornata intera Alexa saluto i miei iscritti Ciao Allora mi sono appena svegliato e quindi devo andare a fare colazione Ma prima Magari mi devo togliere il pigiama Beh ma cosa mettermi da vestire non posso sceglierlo io Alexa come mi vesto? Ma come? Assicurati di indossare abiti che ti stiano bene Poiché quelli troppo larghi o stretti possono sembrare poco in silenzio Oh mio dio grazie Alexa assistente vestiti Sono qui per consigliarti cosa indossare La tua posizione verrà recuperata in automatico Ma che cazzo ti serve la mia posizione? No io ho paura Questi sono i vestiti che dovresti indossare Oh mi consigli i vestiti Premi un ombrello La temperatura sarà tra 15 e 20 gradi Puoi optare per una t-shirt con cardigan O felpa leggera Per essere a posto per l'intera giornata Portati eventualmente qualcosa da indossare Se devi stare fuori prima o no Ma che figlio Allora ha detto maglia con cardigan Non so neanche cosa sia il cardigan Ha detto maglia corta Quindi maglia corta Pantalone lungo Felpa leggera e va bene così E adesso andiamo a fare colazione Colazione che deciderà Alexa Ma prima di andare avanti Voglio aprire con voi un pacchettino Che mi è arrivato da Trend Device Trend Device è un'azienda italiana Leader nel settore degli iPhone ricondizionati Nata in Italia nel 2013 E con più di 100.000 clienti soddisfatti Ah e non si parla solo di iPhone Ma anche di Mac, iPad, Apple Watch Ma c'è molti altri prodotti tech Oh mio Dio Ma cosa significa ricondizionato? Gli iPhone e gli smartphone ricondizionati Non sono come quelli usati Ma sono device che vengono rimessi a nuovo Ripristinandone il funzionamento al 100% Grazie a più di 30 test da laboratorio Uno smartphone ricondizionato E quindi fino al 40% più economico Ma allo stesso tempo Ha la stessa qualità e garanzia Che offre un device nuovo Tre device così sicuri della qualità Che oltre ai 30 giorni di reso Vi offre anche 12 mesi di garanzia Sui loro prodotti Sarete quindi tutelati al 100% E non correrete alcun rischio Perché avete tutte le garanzie Di un'azienda seria E con più di 10 anni di esperienza sulle spalle A differenza del comprare smartphone usati Che non hanno nessun tipo di garanzia Potete anche passare in uno dei negozi fisici Di Tre device In città come Roma, Milano, Bologna, Vellino Per toccare con mano La qualità di uno smartphone ricondizionato Prima di acquistarlo Inoltre la prossima apertura sarà a Torino Seguite Tre device su loro social per le novità Anche me già che ci siete Tre device con i suoi prodotti ricondizionati Riduce gli sprechi di materie prime E sostiene l'economia circolare Tanto che nel 2020 ha evitato l'emissione Di oltre 6.000 tonnellate stimate di CO2 Se stai quindi cercando un nuovo iPhone Passa dal link in descrizione Perché ci sono le Tre device week Con sconti imperdibili fino a 100 euro E come se non bastasse con il codice sconto MemeTD10 avrai un ulteriore 10 euro di sconto Su un minimo d'ordine di 250 euro Insomma è una cosa spettacolare Cosa mangio per colazione? Se potessi mangiare proverei ogni giorno una specialità diversa Ti mi dici di assaggiare un piatto o un cibo che ancora non conosco Grazie del consiglio Cosa c'è per colazione oggi? Ti consiglio colazione messicana Raggiando già sarà 30 minuti di preparazione Ma è? Tesai 1 La colazione messicana è generalmente composta da caffè Succo d'arancia Uovo strapazzato e servite con tortiglia di mais Salsa di pomodoro e crema di fagioli Ci sono un po' tante cose complicate Considerando che non so cucinare L'uovo strapazzato sono in grado di farmelo E del caffè e succo d'arancia Uovo Oggi è colazione messicana con quello che abbiamo in casa Egg Oh la giorni in scatola non li ballo Oh la fantastico Uovo pronto Abbiamo l'altra punta Cos'era l'altra cosa? Uovo e tortiglias di mais Ce l'abbiamo le tortiglias di mais Queste cos'è? Non abbiamo le tortiglias ma abbiamo solo le gallette di mais Il principio è lo stesso Sempre mais Un baglio di gallette di mais andranno bene Oh ma che colazione Buon appetito Mi sembra proprio di stare in Messico Però non è male galletta di mais e uovo E adesso per concludere un bel caffettino Caffè rigorosamente scaldato a microonde Madonna Ho scaldato dell'acqua Non è che ho fatto esplodere qualcosa Caffettino E concludiamo così la colazione messicana Ah tra l'altro devo anche rispondere a un messaggio di buongiorno che mi hai mandato già Alexa Consigliami un messaggio di buongiorno Non lo so Alexa Come scrivo buongiorno? Buongiorno è scritto di U-O-N E-U-R-N Che cazzo è lo spelling di Bello Kigo? Ma lo prese? C-A-M-I-A Ma lo prese? Buongiorno Scriverò buongiorno Ok colazione è finita E adesso come disse un grande intellettuale La cosa divertente è che dovrei studiare No scherzo non dovrei Devo studiare Stamattina studio tutta la mattina Devo studiare fisica e scienze E da quale comincio? Alexa Fisica o scienze? Deve dirmi una sci... Alexa Scegli fisica o scienze? Non lo so Mi stai prendendo per il... Fisica 1 scienze 2 Scegli un numero da 1 a 2 Ecco un numero tra 1 e 2 Cominceremo con scienze Oh no c'è stato un imprevisto Ci sono dei vestiti sulla mia scrivania Non posso studiare Metto a posto i vestiti O li sposto sul letto e faccio finta di niente? Uno li sposto Due li metto a posto Alexa scegli un numero tra 1 e 2 Mi sposto E' Alexa che non mi vuole far riordinare campo Ok e ora studiamo scienze Ho finito di studiare scienze E adesso si passa a fisica Che sono interrogato domani Ok signori allora Ho finito adesso di studiare Ed è ora di pranzo Quindi è pronto in tavola Visto che il pranzo è pronto E io non mangio da solo Perché mangio quei miei Non posso chiedere ad Alexa Che cosa mangiare per pranzo Però Alexa potrebbe condizionare il mio pranzo E decidere quanto devo mangiare Lasagna Io ce ne ho il doppio Mangio quella mega fettona di lasagna giga enorme O la divido Francesco Uno la mangio e due la divido Alexa Scegli un numero tra 1 e 2 Ha detto 1 E abbiamo metà lasagna da mangiare 3 kg di lasagna da solo Perfetto Oh signori Lasagna finita Pranzo concluso Ma l'unica cosa Voglio magari mangiare un po' di frutto Alexa Dimmi un frutto da mangiare Alcuni dei frutti più popolari Sono melleno Arance con pelle Si vabbè Non è che devo mangiarmi Tutta la forese Che mela sia Io volevo le fragole Fa proprio di mele Adesso quello che dovrei fare E mettermi a rivistare I prossimi TikTok Che devono uscire Nelle prossime settimane Ma soprattutto I miei mi hanno chiesto adesso Se vado a fare una passeggiata Con loro Da qualche parte In qualche paesino sperduto Io non è in realtà Che abbia molta voglia Però quest'oggi La vita non è mia Quindi Vado a fare una passeggiata O sto a casa Non lo so Prendi una decisione La scelta di questo La lascio a chat GPT Vado a fare una passeggiata O sto a casa 3 2 1 Vediamo cosa dici La scelta dipende Dalle tue preferenze personali Da Scegli casualmente Tra le due opzioni Va bene allora scegliamo No Vado a fare una passeggiata E va bene Andiamo a fare una passeggiata Alexa Come mi vesto Per andare a passeggiare C'è il tuo abilamento Da passeggio Per includere almeno Un capo di colore brillante Che possa essere visto Da davanti e dietro Un capo di colore brillante Che possa essere visto Da davanti e dietro Mi devo vestire Da evidenziatore Che è la cosa più brillante Che ho La maglia della Pringles Questa è bella gialla Questa andrà bene Ok Ci siamo Maglia bella visibile Davanti e dietro Gialla Perfetta Andiamo a fare questa passeggiata Voi gli occhiali rosa Per caso Oh no Chiediamola ad Alexa Se usciamo così Alexa deciderà Se mettiamo gli occhiali così Per uscire O se usciamo così Uno metti gli occhiali E due non li metti Sorteggio il numero da 1-2 1-3 1-2 Dobbiamo uscire così Grazie Alexa Tu si che dai consigli utili Ok Adesso una domanda Che condizionerà pesantemente Il nostro viaggio in macchina Uno è radio normale Due è radio marina Alexa Scegli un numero da 1-2 Quanto manca? Allora signori stiamo qua E ci sta un mega raduno Di macchine Non per poveri Non so perché io sia qua Anche perché in realtà La mia conoscenza sulle macchine È tipo che hanno un motore E quattro ruote No idea Allora si può chiedere ad Alexa Fare una foto per Instagram Con una Di quelle macchine laggiù Oppure fare una foto per Instagram Con quella Qual è 1 e quale 2? 1-2 2 questa E 1 il pandino Dimmi un numero da 1 a 2 1 E' uscito uno Dobbiamo veramente Fare una foto col pandino Bru ma quante cazzo di panda ci sono? Ma è la panda del laso Oh raga Va che mezzo Incredibile Facciamo un post A questo grande mezzo Questo si che è un post di qualità Venite a mettere like A questa foto Seguitemi su Instagram A Medeo Canistraro O link in descrizione E mo andiamo in fiera Allora abbiamo notato adesso Un dettaglio interessante Lo vuoi quel bellissimo peluche Laggiù? Lo vuoi quello? Alexa deciderà Chi dei due si compra Il peluche della sirenetta Cioè uno lo compra all'altro Uno lui compra a me Il coso della sirenetta E due glielo compro io a lui Ti prego due Scegli un numero da 1 a 2 Si No E' uscito uno Resta qui Sto veramente Devo andare in giro Oh questo si che è un outfit Fantastico Ringraziamo Alexa Per avermi fatto fare questa cosa Hai appena passato Un gruppo di ragazze Di fianco a noi Ma guardato tipo Così si rimorchia E' un po' scomoda Però Inusuale però Come cosa Ecco Cosa prendo? Consigliami una bibita casuale Ha aperto Amazon E ha cercato bibita casuale Qual è il primo risultato? Le vande america Ma no Io ci ho provato Uno crodino Due coca cola Tre gassose Quattro acqua Alexa dimmi il numero da 1 a 4 Della sanissima acqua Grazie Alexa Mi stai facendo fare tante scelte buone quest'oggi Senti che buona questa acqua gasata E con questo si conclude il nostro fantastico giro in fiera Ma sapete che c'è? Abbiamo fatto la foto col pandino Ma per il meme adesso Perché non farne anche una con la Lamborghini e il palloncino? E' da fare Facciamo diventare questa foto La foto con sirenetta e Ferrari Con più like di Instagram Vi ricordo seguitemi su Instagram Se ancora non lo fate Amedeo Canistraro O link in descrizione Direi che ne vale la pena Ok signori Sono tornato a casa E ho anche già registrato No prego Sono tornato a casa E ho anche già registrato i tiktok E tra una cosa e l'altra Si sono fatte Alexa che ore sono? Sono le 7 e trent 7 e trent Tocco di sera 7 e trentotto Adesso devo andare a cena Con i miei Insieme a dei loro amici Quindi mi devo rivestire E la scelta di che cosa Mi metterò questa sera Tocco ovviamente a lei Come mi vesto questa sera? Questa sera è previsto cielo Prevalentemente sereno Ma mica ti ho chiesto il meteo Ti ho chiesto come mi vesto Lo smoking è di un agito formale Ma l'avete visto il mio guardaroba? Chi cazzo ce l'ha lo smoking Qua in mezzo Scusate Prendi una giacca O una felpa più pesante Se devi stare un cuore Più quel giorno Prendi una giacca O una felpa più pesante Che spettacolo Direi che così per andare a cena Va più che bene Signori siamo adesso al ristorante E c'è stato un piccolissimo imprevisto Ovvero io pensavo Che ci fosse il menu alla carta E quindi mi ero già preparato in testa Alexa ordinerà tutta quanta la mia cena Sorteggiando piatti a caso E qui non è menu alla carta Perché essendo un agriturismo Il menu è fisso e portano quello Possiamo dire che sia stata una giornata strana Ma divertente Alexa Buone notte e buon riposo